Ciao! Eccoci qua! Vi vorrei parlare del Sacro Cuore di Gesù che è un aspetto di Gesù, come dire, un suo aspetto che io amo particolarmente. Il Sacro Cuore di Gesù rappresenta l'amore che Gesù ha per noi, per ciascuno di noi, che è un amore pienamente divino e pienamente umano e che lui ha manifestato in particolare durante tutta la sua vita, ma in particolare nella passione morte in croce, dove lui ha sofferto per ciascuno di noi. E quindi questo amore che lui prova è un amore capace di sacrificio e se ci pensiamo bene, quando siamo disposti a fare un sacrificio per una persona vuol dire che la amiamo e, per esempio, magari i genitori verso il figlio può essere una situazione naturale, dove magari si devono fare una serie di sacrifici, ma si fanno con amore e quasi non pesano. Questo modo di amare di Gesù, che è totale, è qualcosa che, sapete, per me è stato il modo specifico in cui Gesù mi si è in qualche modo rivelato in un pellegrinaggio a Međugorje e io lì di fronte al suo amore mi sono convertita, ho ricevuto la fede e ho iniziato un cammino di fede. Esiste una vera e propria devozione al Sacro Cuore. Devozione vuol dire amore al Sacro Cuore. Esistono tantissime devozioni che riguardano tantissimi aspetti di Gesù, ma anche di Maria, dei Santi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica parla del Sacro Cuore di Gesù e vi riporto magari qui sotto che cosa scrive. Sono pochissime righe, ma belle e che proprio vedono nel cuore di Gesù il suo amore infinito per ogni uomo. E dovete sapere che appunto questa devozione al Sacro Cuore è molto forte, molto presente nella storia della Chiesa perché nel 1600 ci sono state delle apparizioni a una suora che è stata poi dichiarata santa, che è Santa Margherita la Cocca, che nel 1600 ha avuto delle apparizioni di Gesù. Quindi Gesù le è apparso e le è apparso con il proprio cuore in mano, un cuore che è rappresentato con la croce, con delle fiamme, la corona di spine e anche una ferita che sappiamo si riferisce, è la ferita che Gesù ha subito quando era sulla croce e lui era già morto, ma prima di deporlo dalla croce sappiamo che i Vangeli ci riportano che un soldato romano ha con la lancia trafitto il cuore di Gesù. Ed esistono, sono state fatte molte immagini che rappresentano il Sacro Cuore di Gesù. Magari Gesù a volte può essere leggermente diverso, ma la sostanza è sempre quella che c'è Gesù con questo cuore che ha queste caratteristiche. Gesù, mostrando questo cuore, le ha chiesto di amare il suo cuore e di riparare, di amarlo per tutti quelli che non amano il cuore di Gesù, per tutti quelli che non amano Gesù, che rifiutano l'amore di Dio. E ha indicato anche addirittura una pratica che è la pratica dei nove venerdì del mese, ossia lui ha indicato come venerdì, il primo venerdì del mese, il giorno in cui proprio onorare il cuore di Gesù e lui ha indicato come, cioè ha chiesto di prendere l'eucarestia proprio con l'intenzione di amare e riparare per chi non ama il cuore, non ama Dio. E di fare questo, il primo venerdì del mese, per nove mesi consecutivi. E in quell'occasione Gesù ha detto anche dodici promesse, che sono veramente forti, ve le metto qui sotto, perché se ve le leggo mi dilungo troppo, ma dodici promesse di cui la dodicesima è considerata la grande promessa perché effettivamente Gesù promette l'impenitenza finale, cioè che assisterà l'anima, che le permetterà di arrivare in grazia di Dio fino al momento della morte. E poi ci sono tantissime altre promesse, un'infinità di grazie, benedizioni su di noi, sulla nostra famiglia. E quindi sicuramente è qualcosa che io vi consiglio di fare. Siccome l'11 giugno 2021 è il giorno della festa del Sacro Cuore, vi invito a, se potete andare a messa, e quindi andare a messa con il desiderio di amare Gesù, voi potete amarlo, non importa se non l'avete amato fino adesso. Voi potete cominciare adesso, voi potete rinnovare il vostro amore e proprio avere questo desiderio, cioè questo è l'importante, che noi abbiamo il desiderio di amare Gesù. Se poi dentro non sentiamo amore, se poi non siamo capaci, tutto questo, questo non gli importa. Gesù desidera che noi lo cerchiamo, che abbiamo questo desiderio, di incontrarlo, di stare con Lui. A me piace molto anche il Sacro Cuore, perché oggi che pensavo a cosa raccontare un po' in questo video, ho pensato ai miracoli eucaristici, che non so se avete mai sentito parlare, ossia nei secoli sono registrati tantissimi miracoli eucaristici, cioè la particola consacrata, quella che durante la messa viene consacrata, questa particola si è trasformata in carne e sangue, e analizzando il laboratorio hanno visto che sono pezzi di cuore. Comunque vi metto sotto dei link dei miracoli eucaristici, perché sono la prova che la particola consacrata è il corpo e sangue di Cristo. È singolare che ogni volta sia un pezzo di cuore. Noi sappiamo che Dio è amore, ed è credo l'essenza più profonda che dice di Dio, che racconta di Dio. E poi l'ultima cosa che volevo dirvi era di stare appoggiati al cuore di Gesù. Io leggendo la Gabrielle Bossis, che è una mistica del Novecento, che vi ho fatto anche un video, lei sentiva la voce di Gesù che le parlava, praticamente tantissime volte lei le ha invita a appoggiare la propria testa sul petto di Gesù, quindi sul cuore di Gesù, e di stare così, di stare così proprio come con lui. E oggi, guardando su Instagram, ho trovato una cattolica americana che ha fatto una cosa geniale, che è vero, che praticamente il primo che ha avuto devozione al sacro cuore di Gesù è stato San Giovanni Apostolo. Perché, se pensate all'ultima cena, i quadri dell'ultima cena, vedete sempre che San Giovanni Apostolo viene rappresentato con la testa appoggiata sul petto di Gesù. E poi sappiamo che lui è l'amato, viene chiamato nel Vangelo il discepolo amato, e lui aveva proprio questo amore straordinario per Gesù. E quindi ecco, queste sono un po' di idee, comunque ci sono tantissime preghiere, tantissime coroncine, litanie, c'è di tutto, perché è veramente una devozione grossa. Vi invito proprio a cercare il cuore di Gesù, perché potete farlo, non importa cosa avete fatto fino a un attimo fa, se vi siete stati sempre distanti, potete adesso chiedergli proprio di stare con lui, di stare sul suo cuore e vedrete che Gesù vi si farà vivo perché lui veramente ama ciascuno di noi. Bene, io vi saluto, io qui sono in compagnia dei gatti, guardateli, uno, due, avete visti? e buona giornata, buona serata, vita!